Vi presentiamo l'Emilia Romagna ed in particolare quell'Emilia tanto rinomata per l'enogastronomia e per avere dati natali a personaggi illustri. Reggio Emilia, la nostra città, gente cordiale ed accogliente. All'usciuto del casello autostradale vi daranno il benvenuto i ponti di Calatrava, progettati dal famoso architetto spagnolo. Iniziamo con la visita alla città, la cattedrale, il municipio con la sala del tricolore, dove nata la bandiera italiana, l'acqua San Prospero con la chiesa del Battistero, il teatro a Riosto e la piazza dei teatri, la bellissima basilica della Ghiara, il teatro municipale Valli con la fontana tricolore. Dear friends and colleagues, let me introduce you Emilia Romagna and especially Emilia, birthplace of thousands of illustrious persons. Reggio Emilia is our town, here people are good-humored, friendly and present. As soon as you leave the highway, you are welcomed by the Ponte di Calatrava, a system of crossing bridges designed by the famous Spanish architect. And then, let's visit Reggio Emilia, its cathedral, three theatres open in a square alone, the Valley Theatre, its tricolore fountain, Ariosto Theatre, the Town Hall and its tricolore hall, where our Italian standard was born, San Prospero Church and its square, the Armonious Sanctuary Basilica della Ghiara. Il nostro penino con la pietra di Bismantova, qui aria salubre e tante attività sportive. Our mountains, the Apennines, with the Bismantova stone, where the air is light and people can practice their favorite sports. Un grande evento, la riavigazione storica di Matilde di Canossa a vice-regina d'Italia, che si svolge tutti gli anni alla fine di maggio ai piedi del Castello di Vianello, a Quattro Castella, con circa mille comparti in abiti d'epoca e attrae milioni di persone. Fate conoscere ai vostri gruppi questa particolare manifestazione, ne rimarranno entusiasti. Let me remind you a great event attracting millions of people, the historical remembrance of the great countess Matilda of Canossa, taking place every year at the end of May in front of Castello di Vianello and in Quattro Castella with almost 1,000 background actors dressed in 12th century costumes. Visitors will be impressed by this colorful event among Matilda's best beloved castles. Ed ecco il nostro punto forte, la gastronomia con le scuole di cucina per imparare le nostre specialità, il parmigiano reggiano con la visita alle aziende di produzione, il presciutto crudo di Parma con visita ai vari salumifici, l'aceto balsamico tradizionale di Reggio Miglia con possibilità di assaggio e di acquisto, il lambrusco con visita alle cantine e alle terre di produzione. And here is our strong point, cookery, our pasta cappelletti, our parmigiano reggiano cheese and cheese factories deserving a visit, our cured ham from Parma and cured ham factories, the traditional balsamic vinegar from Reggio Miglia worth a tasting tour and a purchase, lambrusco wine and its vineyards. Tourists can learn how to make a cappelletti here. Per gli amanti delle belle auto, visita ai vari musei e alle collezioni private, possibilità di acquisti in outlet con marchi prestigiosi, le nostre terme, i nostri golf e lo show in tour. Ci troviamo a 30 km da Parma e a 30 km da Modena e da Maranello, famoso in tutto il mondo per la Ferrari. For those who love sports cars, there's a wide choice of museums and private collections. Shopping lovers can find prestigious trademarks in clothes outlets, our stars, our green seas and skin adventurous activities. Parma and its monuments stay just 30 km from Reggio Miglia and Modena is just 30 km far away from Reggio Maranello, famous worldwide for Ferrari racing cars. Sees the day for a guided tour there. E per chi alla fine del tour volesse un po' di relaxe, c'è la Riviera Romagnola con i suoi divertimenti. Those looking for a relaxing moment at the end of our tour will find the Riviera Romagnola by the seaside with its never moments of entertainment. Possiamo anche raggiungere Mantova, ma questa volta dal fiume, molto più eccitante, attraverso il fiume Po, a bordo di motonavi, dove si può anche pranzare. Il fiume Po da Boretto collega la parte mantovana e la parte parmenza e si possono fare itinerari fino a Cremona e a Venezia. Da non dimenticare la manifestazione Tiro Tiro che si svolge tutti gli anni in estate a Boretto, un festival pirotetico con magie di fuoco e con strabilianti effetti. Oppure un tour dei nostri castelli. Saremo felici di farvi conoscere tutto questo. Aspettiamo i vostri gruppi. Una rivederci tra i tuoi viaggi. Mantova can be reached with motor boats in a surprising itinerary along the Po River. Lunch or dinner served with local traditional dishes on board. From Boretto Harbour several itineraries are possible to both river banks to Mantova, Parma or Cremona and even Venice. Or you can see some beautiful fireworks on the river itself. Or have a guided tour to the castles on the Apennines and their gorgeous landscapes. We'll be happy to let you discover our region ready to entertain your groups. Arrivederci from Maitai Viaggi. Grazie. Grazie. Grazie.